La Guardia Torre, Cactus 1549, proviamo la pista 1-3. Sali, siamo troppo bassi. Siamo troppo bassi. Forza. Solo un altro po'. Ti prego. Sono lì. Lori, ti amo. Atterraggio riuscito alla Guardia, pista 1-3. Per la cronaca, anche le simulazioni computerizzate danno lo stesso risultato. Possiamo fare sul serio ora? Comandante? Ci avete detto delle simulazioni computerizzate e ora stiamo guardando quelle fatte dai piloti, ma non riesco a credere che ancora non abbiate preso in considerazione il fattore umano. Simulazioni con piloti umani mostrano che potevate tornare all'aeroporto. No, per niente. Quei piloti non si sono comportati come esseri umani, come persone che provano quell'esperienza per la prima volta. Magari non hanno reagito come lei. Immediatamente dopo il bear strike virano per tornare in aeroporto, come nelle simulazioni al computer, immagino? Sì, esatto. Ovviamente conoscevano la virata e anche esattamente la prua. Non hanno fatto un check, non hanno inserito l'APU. Avevano gli stessi parametri da voi affrontati. Noi non siamo stati avvisati. Nessuno ci ha detto perderete entrambi i motori ad una quota più bassa di qualsiasi altro aereo della storia. Per la cronaca, questo è il CVR del volo US Airways 1549, 15 gennaio 2009. Signori, cuffie, prego. Uccelli. L'Uno si sta spegnendo. Si stanno spegnendo entrambi. Cactus 1549, se è disponibile accettate la pista 1-3. Impossibile, forse andiamo nel Lazio. Qui è il comandante. Pronti all'impatto. Pronti all'impatto. Pronti all'impatto. No, no, no. Forza, forza. Attenta, aiutate. Così, forza. Forza, forza, uno alla volta. Vediamo tutti, tranquilli. Vieni! Presto! Come ci vediamo, come ci vediamo? Siamo a 30 secondi nell'aereo.